Hai notato? Abbiamo reinterpretato le giacche utilizzando materiali nuovi, in questo caso jersey, per conferire un comfort maggiore ripensato per il post lockdown, dove vivremo più a casa e sicuramente avremo bisogno di un outfit un po' più comfort, un po' più relax e magari sempre professionale. Tu hai rivalutato gli ambienti domestici? Certamente sì, abbiamo dopo questa esperienza scoperto nuovi valori, uno assolutamente vorrei dire è il valore della semplicità, una nuova semplicità che la vedo anche nella tua collezione Marco e questo ci aiuta proprio a pensare di eliminare tutto quello che ha superto. Mi parlavi di questa nuova semplicità, ma cosa intendi per nuova semplicità? Intesa nello spazio domestico, nella riprogettazione di una casa più flessibile, più adatta all'utilizzo che abbiamo appena vissuto, che però ci ha consentito di rimanere connessi con il resto del mondo, online e offline. Da qui un'altra conferma che moda e architettura vivono in pratica in simbiosi, di fatti anche noi abbiamo reinterpretato degli outfit pensando questa nuova vita che affrontiamo in casa, dove ci sarà appunto spazi pubblici e dove dobbiamo comunque apparire professionali, dove la casa diventerà un ambiente dove vivremo di più e soprattutto abbiamo rivalutato anche il fattore tempo. Da qua il desiderio mio è stato quello di ripensare alle cose belle che la storia ci racconta, quindi gli anni della dolce vita, dove avevamo il nostro Mastroianni che è un'icona di bellezza, un'icona di stile che mi ha ispirato per questa collezione e qua lo rappresentiamo con due esempi molto interessanti perché abbiamo cercato di rendere questi outfit più comfort, più, leggermente più casual interpretando queste camicie a righe o queste maglie a righe con delle giacche in jersey o degli abiti casual. Qui passiamo alla seconda atmosfera della collezione Spring Summer 21 che è Metropolitan Rider, quindi pensato per l'uomo motociclista che gira la città o in bicicletta in moto con questi abiti reinterpretati, con un tema importante che è la funzionalità. Questa atmosfera rappresenta lo stile e l'ambiente del business casual at home, quindi un abbigliamento sportivo, un formale più sport, quindi l'abbiamo interpretato con delle felpe, con delle sneaker proprio per vivere l'ambiente domestico mantenendo un aspetto professionale. L'ultima atmosfera è dedicata al denim e viene chiamata Indigo Genesis, Indigo Genesis perché vuole essere la purezza del denim rappresentato da lavaggi senza nessun tipo di orpello pulitissimi. Qua abbiamo il One Years Warming, quindi un jeans di un anno di vita, six months warming, sei mesi di vita, il jeans con i rammendi colorati iconico di Eleventy, trattamento marble e off-white. Tutti sono pulitissimi ed estremamente essenziali.